Perchè votare per Estrino-Montino? C'è uno che lavora nei momenti difficili, quando tutti si lamentano e si demoralizzano. Estrino-Montino lavora, non si lamenta, non si demoralizza, fa le cose che vanno fatte, mantiene la lucidità, ha la profondità della sua competenza e della sua esperienza e perché è una gran persona per bene. Grazie per la visione!